Allora, lei è Phoebe, è una cagnolina adulta, molto dolce e sensibile, però sicuramente va fatto anche un percorso di avvicinamento e che con molta molta pazienza, infatti è un po' diffidente con gli strani, però come si può ben notare, poi una volta che prende confidenza è magnifica. È una giocherellona, le piace anche giocare con le palline, con qualsiasi giochino, le piace correre, le piace camminare, le piace avventurarsi, fare di tutto, ecco. Infatti meriterebbe di passare gli ultimi anni in una casa piena di amore e coccole. No, fate vedere come sei bella. Eccola.